di avvicinarsi tutti sul palco, i primi set li mettiamo sul palco, gli altri ci rimaniamo intorno Massimo Rinaldi, vincitore della gara sul podio, applausissimo da parte nostra Roberto Andreoni, Cristiano Mencarelli, Massimo Sacchetti, Claudio Valentini, Davide Berti e Daniele Perazzini sul palco ragazzi, continuiamo, i prossimi si avvicinano, Perazzini e Daniele? Ah, questo lo conosco, non lo sapevo, non l'avevo associato, allora, per il vincitore Rinaldi Massimo, oltre al premio, anche il biglietto Super Mike, offerto da Cristiano con Sirius, ancora qua vicino al palco per rimanere il premio di gara, Marco Cancunzi, Rinaldi Massimo, che ha fatto il premio di gara, Marco Cancunzi, campanieri, Grazie.